Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove scarpe a Mescalito Planet nuova versione delle classiche Mescalito di scarpe, della loro calzatura da avvicinamento di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno di recensione completa Iniziamo come al solito delle caratteristiche di queste scarpe a Mescalito Planet Per quanto riguarda la suola troviamo una suola Vibram con mescola Mega Grip e tecnologia Light Base Per quanto riguarda la tomaia abbiamo una tomaia in Perspair e l'intersuola invece a doppia densità in eva il tutto per un peso di 365 grammi nella taglia 42 Adesso che abbiamo visto le caratteristiche iniziamo con i pregi e difetti Iniziamo come al solito dalla suola Come vi dicevo troviamo una suola Mega Grip con tecnologia Light Base Beh, il Mega Grip è sempre un'ottima mescola Infatti questa calzatura è perfetta per andare su roccia, anche roccia bagnata davvero ha un grip eccezionale L'unica cosa che mi ha fatto storcere un po' il naso è il fango Avendo dei tasselli molto vicini che non lasciano tanto spazio al fango e soprattutto tasselli abbastanza sottili vi assicuro che sul fango tiene poco davvero tiene pochissimo e vabbè però ci può stare comunque una scarpa da avvicinamento è l'aspetto più importante quello che abbia un grip sulla roccia e vi assicuro che quello ne ha Non da meno naturalmente poi anche la climbing zone nella parte anteriore della scarpa per darci un bel sostegno e riuscire a progredire anche su passaggi di terzo o quarto grado Passiamo ora a parlare dell'intersuola In questo caso troviamo un'intersuola a doppia densità Cosa vuol dire? Che troviamo una parte posteriore messa nel tallone con un'alta densità che serve per avere una scarpa molto stabile e molto protettiva anche dalle rocce e proprio per la protezione dalle rocce troviamo la parte restante dell'intersuola a media densità che è quella che ha il miglior compromesso tra ammortizzazione e protezione Cosa vuol dire? Che questa scarpa riusciamo a farci degli avvicinamenti molto lunghi davvero è una scarpa con cui riusciamo a fare tante tante ore di camminata ma allo stesso modo se camminiamo su delle rocce non sentiamo dolore alla pianta del piede quindi davvero un ottimo intersuola che mi ha fatto particolarmente apprezzare questa calzatura di scarpa Continuiamo e arriviamo a parlare della parte superiore della Tomaya iniziando al puntale Beh, qui troviamo un puntale veramente molto strutturato un puntale che se prendiamo a calci una roccia non sentiamo praticamente nulla quindi un puntale veramente bello deciso Per quanto riguarda la Tomaya troviamo un materiale per Spain che ha innanzitutto un alto percentuale di materiale riciclato questo fa sempre bene e poi è particolarmente traspirante davvero vi assicuro questa scarpa mi ha abbastanza sorpreso per la sua traspirabilità pensavo di trovare una scarpa molto più calda ma anche utilizzata nelle giornate più calde e estive questa calzatura non mi ha fatto sudare particolarmente un materiale poi anche molto resistente io ci ho fatto delle vie ferrate ci ho fatto degli avvicinamenti su roccia anche escursioni su roccia bella tagliente e davvero questa scarpa non ha nessun graffio quindi comunque è un materiale molto molto resistente arrivando poi a parlare del tallone troviamo un tallone abbastanza strutturato che tra il tallone e la parte di intersuolo ad alta densità che abbiamo visto prima fa sì che la scarpa sia molto precisa una scarpa con quale anche se è bassa è un po' difficile prenderci delle storte perché vi assicuro ci tiene molto bene in carreggiata a seconda molto la camminata quindi davvero un ottimo tallone con un'ottima imbottitura perché comunque questa scarpa ha un'ottima imbottitura anche sul tallone anche se dovessimo fare dei traversi ci aiuta molto infine per quanto riguarda linguetta e lacci linguetta molto classica esoda bene dei lacci non da dire ci sta i lacci molto particolari invece perché ha un'allacciatura che arriva praticamente in punta cioè davvero un centimetro ancora e l'avremmo avuto proprio sulla punta della scarpa ed è un'allacciatura che tra la tomaia e i lacci fa sì che questa scarpa calzi proprio come un calzino si avvicina molto ad avere una scarpetta da arrampicata e vi assicuro che questa allacciatura se stretta bene fa veramente la differenza quando dobbiamo fare dei passaggi di terzo o quarto grado su delle vie quindi veramente molto interessante questo tipo di allacciatura infine per quanto riguarda la soletta soletta di scarpa io mi ci sono trovato bene mi è capitato anche di bagnare la scarpa e la soletta non ha avuto problemi quindi è removibile ma io andrei avanti a utilizzare questa senza tanti problemi a livello di calzata è una scarpa che calza veramente molto precisa è una scarpa col quale non c'è mezzo millimetro di possibilità che il piede vada ad allargarsi è pensata proprio per avere una calzata molto fasciante quindi se avete un avampiede particolarmente ampio vi consiglio di prendere almeno mezzo numero in più o comunque di andare a provarla dove vi consiglio di utilizzare queste mescalito planet allora sicuramente su degli avvicinamenti molto lunghi se dobbiamo fare magari degli avvicinamenti di 2-3 ore per arrivare poi a scalare anche con passaggi di secondo o terzo grado questa planet va veramente bene ma soprattutto ve la consiglio per le vie ferrate io ci ho fatto diverse vie ferrate mi sono piaciute parecchio in quell'ambito e soprattutto in quel caso ho un giorno fatto una via ferrata in cui avevo 2 ore e mezza di avvicinamento con anche un bel po' di dislivello e vi assicuro che ho fatto tutto il giro alla fine senza stancarmi mai quindi veramente per gli avvicinamenti e le vie ferrate sono ottime arriviamo dunque alle conclusioni per queste scarpe a mescalito planet ve le consiglio? assolutamente sì online si trova sui 125, 135, 140 euro ci sono diverse promozioni anche in atto quindi le si trova abbastanza scontate vi assicuro che è veramente un'ottima calzatura vi assicuro che con questa calzatura se volete andare a fare vie ferrate o comunque escursioni su roccia vi troverete molto bene anche a livello di materiali nulla da dire poi questa idea planet che sta utilizzando scarpa per il materiale riciclato mi piace davvero tanto che dire ci ho messo un po' a provare questo mescalito planet perché mi sono piaciute tantissimo e penso che andrò ancora avanti a utilizzarle anche dopo questa recensione perché davvero mi sono piaciute parecchio detto ciò ragazzi è una speranza di essere stato esauramente esaustivo anche per questa recensione vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao